Beh non potevo non esserci alla zuppa di porro di fine anno del 2017, abbiamo passato, la prima zuppa fu servita il 4 ottobre del 2014, potete trovarla su Facebook perché Facebook ha una timeline e sulla mia pagina vedrete che la prima zuppa è quella del 4 ottobre del 2014, non proprio tutti i giorni ma direi quasi tutti i giorni ho servito questa zuppa, in genere non alle 12 e mezza come oggi perché sono andato a sciare ma verso le 10 di mattina, questa è l'idea di fare una zuppa, François la prima a fare i commenti ci segue da quel giorno, bonjour Nicola, François, la saluto come saluto tanti che in questi ultimi tre anni ci hanno seguito, come vedete le prime zuppe avevano una, due commenti, adesso siamo arrivati a 500, 600, qualche volta 1000, abbiamo un reach di 150.000 persone, 100.000 persone quando riusciamo a di audience per la zuppa e abbiamo 20-25.000 visualizzazioni, sono qualche numero che però mi dà conforto che quello che stiamo facendo, Alex, Cristina che ci stanno facendo gli auguri questa mattina che mi dà il conforto che le cose sono fatte bene. Adesso quindi direi auguri a tutti quanti, questa zuppa di oggi vi dico subito che sarà un po' diversa perché non sarà una zuppa a 5 stelle, a dado star perché lo sapete come la pensiamo noi, in realtà non è una zuppa neanche del Cavaliere come qualcuno pensa, non è una zuppa neanche di Renzi, è una zuppa che si permette di avere la sua libertà di dire tutto quello che pensa, oggi ad esempio l'intervista del Cavaliere sul giornale è uno di quegli ingredienti che non danno un grande sapore, ecco non riesco a trovare una grande novità in quello che oggi ha scritto il Cavaliere. Nonostante l'intervista di Sallusti sia divertente, auga Giorgio, non lo dico, però non so perché Giorgio chissà dove cavolo è alla fine dell'anno, ma secondo me poi tra un po' arriva. Sallusti gli ha fatto una bella intervista, anche umana, dopo un anno del suo operazione al cuore, però insomma alla fine poi per quello che riguarda le grandi ricette rivoluzionali che nel 94 il Cavaliere ha saputo, come possiamo dire, propagandare, oggi alla fine, forse anche per la vittoria da un punto di vista intellettuale, le dicono tutti, l'imposta negativa sul reddito, cioè il cosiddetto suo reddito di dignità, lui cita Milton Friedman, ma è a buon gioco il Movimento 5 Stelle a dire che un reddito uguale per tutti i più deboli l'avevano pensato loro, certo poi si potranno discutere sulle tecnicalità, ma il concetto di aiutare i più deboli, l'idea di Milton Friedman non è originale del Cavaliere, anche se lui dice essere molto diversa. Molto divertente invece oggi sul giornale un altro dei fili rossi di questo anno, vissuto pericolosamente insieme, si fa per dire, e cioè lo sapete che non abbiamo un atteggiamento pregiudiziale nei confronti di Renzi, che ci ha fatto un bello scherzetto, come vi ricorderete quando stavamo in Rai con Virus, cioè ci ha fatto fuori sostanzialmente lui e tutta la sua banda del Conte Mascetti e dei suoi sottopansa, insomma un giro di persone che non ha meritato nulla, tant'è che la Rai l'hanno distrutta, non tanto per me, che quello conta poco perché io sto anche meglio dove sto ora, ma l'hanno distrutta. La cosa che mi viene da ridere è che in questo anno, vissuto pericolosamente, una delle accuse che è stata fatta a Renzi è quello di aver fatto molto il giglio magico. Oggi il giornale racconta la storia sui sacchetti biodegradabili e ci sono due cose strane in questi sacchetti biodegradabili obbligatori per legge da domani. La prima è che è vietato per i supermercati incamerare loro il prezzo di questi sacchetti, cioè potevano regalartelo il sacchetto e assumersi loro l'onere di questo sacchetto biodegradabile. Non è permesso per legge, possono fare 3x2, 2x3, quello che cacchio possono fare, i punti, fidati, farti gli sconti, ridarti i cieco a terra, ma non possono regalare gli sacchetti. E sapete perché? Perché in questa maniera, se regalassero i sacchetti, non si avrebbe il senso, anche giusto dal punto di vista economico, del costo del sacchetto e quindi la gente ne utilizzerebbe di più di rispetto al dovuto e non si avrebbe l'effetto benefico della riduzione del consumo di plastica. Vabbè! Ma poi allora uno si chiede se è vero che loro vogliono ridurre il consumo di plastica e quindi il numero del consumo dei sacchetti, perché non li rendono riutilizzabili? Perché non sono riutilizzabili questi sacchetti e sono invece obbligatori quei sacchetti e non devono essere riutilizzati, quindi incentivando l'uso dei maggiori sacchetti? La risposta che dà Giuseppe Marino oggi sul giornale è fantastica. Sapete qual è l'azienda che produce l'80% dei sacchetti biodegradabili in Italia? È un'azienda che si chiama Novamont, che deriva dalla vecchia Enimont, dalla vecchia Montedison, che è una grande tradizione della plastica e della chimica italiana. Ma la cosa straordinaria è che l'amministratore delegato di questa società dice sempre, oggi Giuseppe Marino sul giornale, è una che nel 2011 si presentò come oratore della Leopolda. E vabbè, ci può stare oratore della Leopolda. Nel 2014 è stata nominata dal governo Renzi presidente di Terna. E allora questa nuova tassa andrà a beneficiare una signora che è amministratore delegato in un'azienda che ha rappresentato la Leopolda e che è diventata presidente di nomina governativa di Terna. In più, recentemente col suo treno, quello del PD, chi è andata a trovare Renzi? La signora Novamont, che si chiama Katia Bastioli. Sarà bravissima, la società sarà straordinaria, non lo mettiamo in dubbio. Però certo l'idea del giglio magico un po' c'è, anche perché calcola Giuseppe Marino che questa tassa che voi pagherete per prendere la frutta, la verdura, nei supermercati attraverso questi sacchetti biodegradabili prodotti da questa signora è un business che vale 400 milioni di euro. Per un'azienda che ne fattura 120-130, un business che all'80% è suo, potete capire che cosa vuol dire in termini di vantaggio. Oggi l'ultima cosa che mi divertiva, ciao Anna, ciao a tutti quanti voi, auguri. L'altra cosa, Francesca, auguri a Francesca Fazzi, a Virginia, tanti di voi che ci stanno facendo gli auguri, insomma, in questa rassegna un po' più ridanciana. Beh, l'altra cosa, sì io la pagherò Carmen, pagherò anch'io il sacchetto, è Aldo Grasso, il critico cinematografico, il critico televisivo che scrive in genere dei pensierini un po' banalotti sulla prima pagina del Corriere della Sera, almeno io non li capisco, oggi l'ho capito finalmente. Cosa dice? Prende in giro la moglie di Bonolis perché ha fatto una foto sul suo aereo privato mentre andava in vacanza e dice la classe non si compra con i soldi. Allora, questa signora è stata attaccata da haters per questa foto, è stata insultata, è stata augurata la morte che cadesse l'aereo. Allora, il Corriere della Sera non è lo stesso giornale che ce l'ha contro i leoni di tastiera? Non è lo stesso giornale della borghesia milanese che dovrebbe spiegare che ognuno mette posta quello che vuole? Non mi sembra una fake news, è una news, potrebbe essere di cattivo gusto, forse per qualcuno, ma ognuno mette le sue foto come gli pare e si assume le responsabilità, cosa che non si assumono quelli che senza nome ti insultano e augurano che quell'aereo dove tu sei debba cadere. Allora, questa idea pauperista per cui una signora che guadagna un sacco di soldi grazie al marito, se li spende in un aereo privato, mette una foto e deve essere insultata e invece di difenderla dagli insulti, Aldo Grasso e Corriere della Sera attaccano la signora perché non ha classe, cosa che immagino che abbia Aldo Grasso perché sarà un signore scicchissimo, elegantissimo, un vecchio principe napoletano. Non penso che sia un Paolo Isotta, penso che sia un cafonello come tutti noi giornalisti che ci troviamo a fare questo mestiere come impiegati italiani. Allora, ma perché? Ma perché dobbiamo dare le lezioni di classe? Diamo le lezioni che sappiamo fare e cioè quelle banali per cui non si insultano le persone, la moglie di Banolis, per aver postato una foto che può essere non piaciuta a qualcuno, nel novero del non piacere si può dire, ma certo un giornalista dovrebbe attaccare quelli che l'attaccano, non la sua mancanza di gusta. Vabbè, ma lasciamo perdere. Questo ormai è, se uno gli sta antipatico alla signora, c'è ogni modo buono per dirlo. Il Sole 24 ore ci ricordo un altro tema fondamentale di quest'anno, che il PIL, ed è una cosa incredibile, quest'anno è cresciuto più di quanto prevedesse la Banca d'Italia e lo stesso governo e c'è ragione a segnalarlo toniolo oggi sul Corriere della Sera, perché all'inizio dell'anno si prevedeva che il PIL crescesse, Banca d'Italia, a 0,9%, il DEF prevedeva 1,1%, sapete quanto è cresciuto? 1,5%. Se il PIL cresce più di quanto prevede il governo e la Banca d'Italia, vuol dire che è successo qualcosa di straordinario, ma comunque è strano, perché in genere fanno i fenomeni prevedendo un dato migliore rispetto a quello consultivo. Quindi questo elemento è molto importante, fa bene tornare a dirlo che questo elemento è molto importante, quello che forse lui si dimentica e si è dimenticato anche Gentiloni di dire nella sua conferenza di fine anno, ma che non è sfuggito al cameo di Riccardo Ungeri, che tra poco vedrete sul sito nicolaporro.it, e che ha detto che il debito è stato stabile, e questa è una fake news, e questo è il governo che combatte contro le bufale, ha detto una bufala. Quest'anno, nell'anno di governo del signor Gentiloni, è vero che il PIL è cresciuto in 1,5%, e vai, è vero che l'occupazione è aumentata, e vai, anche se dicono che è una brutta occupazione, dice la Boldrini, ma sapete cosa è successo? È aumentato di 71 miliardi di euro, 71 miliardi di euro il nostro enorme debito pubblico. Allora quella di Gentiloni è una falsità detta in conferenza stampa, come rileva Riccardo Ungeri, e l'altro elemento forte, oltre alla crescita e alla disoccupazione che deve diminuire, è quanto i nostri figli pagheranno per i nostri errori, e mi sembra che in questo senso loro stiano pagando molto. Bello il cambiamento proprio completamente di prospettiva del Movimento 5 Stelle, era quello onestà, 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 oggi scopriamo dei giornali, e andiamo da soli, che loro avranno un vincolo sostanzialmente di mandato, tra poco vi dico, e che in realtà potranno fare alleanze, mettiamola così. Un altro elemento importante che i giornali fa gridare all'orrore è che il Movimento 5 Stelle dirà che i propri eletti dovranno per forza votare la fiducia al loro governo, cioè non potranno fare quelle transumanze da una parte all'altra. Sappiamo perfettamente, come ci ricordano tutti i giornali, che in Italia non è previsto perché la Costituzione prevede che una volta che uno si è eletto faccia quello che gli pare, però anche questo è un segno di come il Movimento 5 Stelle riesca a intercettare un umore che i nostri opinionisti, i nostri giornalisti forse non riescono a capire, neanche i politici della Prima Repubblica. E cioè, è obiettivamente assurdo che in questa legislatura 550 persone, penso alla Lorenzin, penso a tanti che sono andati dal Cavaliere e poi ritornati dal Cavaliere, cambino continuamente il loro partito di appartenenza. Vengono eletti con Berlusconi e vanno con Renzi, sono eletti con Verdini e vanno con Berlusconi. Ragazzi, è una cosa tremenda. Allora, il fatto che il Movimento 5 Stelle dica contro la Costituzione, che questo i loro non lo faranno, sarà pure contro la Costituzione, ma è una cosa che a noi ci piace. Banalmente ci piace, perché se votiamo qualcuno, capiamo il senso del vincolo di mandato, di origine antifascista, ma ha un grande senso l'idea di un paese in cui si è governati da mille persone, di cui la metà cambiano partito nel momento in cui vengono eletti. Beh, è una cosa che è molto difficile spiegare, penso, agli stranieri. Il Movimento 5 Stelle riesce a spiegarlo con facilità agli italiani. Potrete averlo con loro, però obiettivamente questo è un tema molto sentito. Ultima cosa, Minniti, apertura del Corriere della Sera, ma è un ministro degli interni. Ma io non capisco perché si debba aprire il Corriere della Sera. Scelta di Fontana. A meno che non si punti, e questo è il mio sospetto, nel 2018, ad avere un nuovo Presidente del Consiglio quando le maggioranze non ci saranno. E chi è? Minniti. Quello che scrive nella sua intervista, rivendichiamo il lavoro straordinario fatto. Non si capisce se il plurale mai è stati, se è rivolto a se stesso o al governo. Boh, vedremo. Direi che per tutto oggi è tutto. Vi faccio un sacco di auguri di buon 2017, 2018. 2017 è stato straordinario, sia in positivo sia in negativo. È finita finalmente questa legislatura e noi ci prepareremo due mesi tremendi di campagna elettorale. Parleremo anche di tanto altro, ma questa sera divertitevi, rilassatevi. E auguri a tutti voi, Françoise, Monica e Lisa che ci stanno già facendo gli auguri in questo momento. Voi a tutti quanti i numerosissimi che mi seguono nella zuppa di porro, condividetela se vi è piaciuta. Ciao!